Ciao Paolo, sono appena ritornata all'ostel Cidade Meravigliosa e ho visto fuori un cartellone tutto colorato, che cos'è? Ecco, questo striscione in realtà raggruppa un cinquantina di disegni fatti dai bambini e i loro genitori della Val di Non, anzi di sette comuni della Val di Non che hanno partecipato a questa iniziativa chiamata Rio Plasiu, Rio Piutu, dove nel 22 aprile abbiamo fatto una giornata di lavori, discussioni sul tema dell'ambiente preparandoci a Rio. Come hai fatto a trasmettere questo tema ai bambini? Innanzitutto abbiamo pensato, ragazzi, bambini avete visto quello cartone animato Rio? E alcuni gli hanno detto di sì, insomma sui pappagalli, tutto quanto, lì è un punto di partenza per parlare su Rio, sull'ambiente, sul pianeta. E abbiamo detto che è molto importante questa conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, perché? Perché andremo a parlare sul futuro del pianeta, come possiamo vivere meglio. Cosa succederà con questo cartellone poi dopo? Come trasmetterà quello che è successo a Rio o ai bambini? Innanzitutto pensiamo di portare questo striscione, questo bandierone, insomma, per le strade di Rio, durante una manifestazione della Cupola dei Popoli, il Summit dei Popoli. Lo esporremo anche lì, assieme a altri cartelloni, striscioni, fatti da diverse altre scuole per il mondo, fatti da bambini. E poi scatteremo delle foto e al ritorno presenteremo questo striscione con le foto in tutti questi seti comuni della bassa Valle di Dona.